no vabbè ci sta chiamando ma ci sta chiamando barbara d'urso ciao ma perché stai ridendo sapete perché rido e perché ridi no vedete l'orologio si sono praticamente le 21 e sono ancora in camerino ma fa un sacco ridere le 21 in camerino io infatti avevo un amico che mi ha detto una barzelletta delle 21 in camerino e faceva un sacco ridere volevo dirvi che da lunedì ci saranno un sacchissimo di nuovi amici un sacchissimo di nuovi amici chi 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 platinet faccio così con i capelli ogni volta platinet platinet no 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 aspetta voglio fare anch'io così con la pelle aspetta carina cascella carina cascella guendalina canessa guendalina canessa guendalina stocca un sacco di cose bellissime quindi dovete andare sulla pagina facebook e cliccare la guardate così bravo clicca stai cliccando il video bravo bravo barbara cliccami il video in faccia che video pazzeschi sta facendo solo per voi col aspetta che cambio mano col cuore aspetta che cambio mano eh col cazzo barbara col cazzo ma cosa no dai smettila barbara ti amo non ci chiamare più barbara grazie lascialo stare ti amo barbara ti seguo sempre ciao 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 ciao